www.marizopoli.it, oggi parliamo di tecnologia, di metaverso e di pagamenti. Mizuhu Bank, la seconda banca giapponese, lancia il servizio di pagamento nel metaverso. Questo servizio di pagamento offrirà ai società di giochi, soprattutto questi sono i primi a partire, di giochi nel metaverso, consentendo ai rivenditori dei servizi nel metaverso di ricevere immediatamente il pagamento. Il sistema del metaverso coin, si chiamerà metaverso coin, dovrebbe essere utilizzato come metodo di pagamento stabile perché è collegato a un conto corrente bancario. Qui ne parla il suo vicepresidente esecutivo in questo articolo e prendiamo questa informazione per quanto riguarda l'evoluzione dei sistemi di pagamento nel mondo virtuale del metaverso ma che sono saldamente collegati alla terra in un conto corrente bancario. Alla prossima!